Goal di gioco Goal di gioco Goal di gioco Vibra! 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 Attenzione Brozovic! Gol! Gol! Varselo! Il gol stupendo di Brozovic al volo di sinistro! Mamma che gol di Brozovic! Al minuto 51 riapre la partita Brozovic! Non è fuori gioco Vesino! Gol! 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 Vesino! Vesino! Matias Vesino! Gol! 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 Stata Vibra! 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 Eriksen prova addirittura il tiro! La traversa! La traversa! Pado anche rimane in aria! Mamma che punizione di Eriksen! Vibra! Vibra! Vibra di testa! Arriva il cross di Moses per Lukaku! Di testa! Gol! Romelu! Rimpvero! Romelu! 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 Luigi disse! è finita l'inter vince e va in testa la classifica di pronto di pronto a chi è a qualcuno che magari ci sta ascoltando si fa piacerissimo anche a me pronto Elio pronto buonasera c'è il luccio mio